Ciao stamattina siamo a Carona, Bergamo, qua dietro la cascata di Shambusa classica, stamattina andiamo allo Zerna, Pizzo Zerna, stamattina sono accompagnato da Davide, ciao Davide saluta! Ciao! 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 Bene siamo arrivati al Pizzo Zerna, siamo in vetta, e questo è il panorama. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.